Bentrovati, è la prima volta su questa pagina che facciamo una diretta doppia e quindi magari se non azzecco qualcosa portate pazienza. Ringrazio il professor Giuseppe De Donno, suo malgrado ormai agli onori delle cronache. Chi è? È un primario dell'ospedale Poma di Mantua che qualche settimana fa ha capito che l'uso del plasma poteva salvare vite. Perché fa parte del suo lavoro, 53 anni, nato in Salento se non sbaglio e al lavoro all'ospedale giorno e notte come tanti altri medici. Salutiamo tutti gli operatori sanitari, gli infermieri di mezza, anzi non di mezza Italia, di tutta l'Italia. E da quel momento apriti cielo, nel senso che adesso ha una pagina Facebook con quanti amici? In questo momento la mia 80.000, ma ho due o tre pagine satelliti con oltre 100.000 iscritti. E con milioni di visualizzazioni? Milioni di visualizzazioni, sì. Ecco, perché? Perché uno dice, fa il dottore, fa il primario, ne ho conosciuti tanti. Perché ha fatto questa sperimentazione, dottore, noi ci rivolgiamo alle 18.15 di questo martedì, magari di chi è in ufficio, chi è a casa, chi è in studio, chi sta studiando, e cerca di capire quel dottore che ha visto di sfuggita la televisione, ma chissà che cosa sta facendo, perché lei è stato accusato delle peggio cose, demente, di bella mantovano, fattucchiera, non lo so, però qualcuno magari l'ha pensato, perché ha guarito, ripeto, ha guarito dal Covid decine e decine di persone e le persone guarite possono donare il plasma e con quel plasma si possono guarire altre persone. Io, da donatore di sangue, da quando ho 18 anni, da donatore di plasma, proprio settimana scorsa, ho adorato fin da subito il fatto che una donazione gratuita e volontaria potesse salvare delle vite. Da quel giorno il dottore ha avuto tanti amici, sicuramente i guariti, i colleghi, i parenti e gli amici dei guariti, ma ha suscitato anche un po' di invidia, di gelosia, di rabbia, di rancore, di articoli giornalistici un po' strani, di polemica politica. Mi diceva prima di collegarsi anche il fatto che oggi pomeriggio ci fosse una diretta con quel tizio strano di Salvini, allora chissà cosa fa la politica. Ma qua, se c'è qualcuno che ha salvato vite, a me non interessa, l'età, il colore dei cappelli, la data di nascita o l'idea politica, va promossa questa attività scientifica. Ho sbagliato qualcosa? Assolutamente. Io infatti il motivo per cui ho accettato questo invito, per il quale anche sono qui a ringraziare, è che la scienza non ha confini e di conseguenza chiunque vi chieda di fare scienza io dico di sì. È un onore per me essere qui con voi, che rappresentate una grande famiglia, così come è stato un onore partecipare a tutte le dirette, a tutte le interviste fatte con circoli culturali, scuole, Rotary, Lions e tutte quelle associazioni di volontariato che me l'han chiesto, con dieci persone o centomila persone. Quando si può divulgare la scienza è sempre una vittoria. Ecco, sbontiamo alcune delle accuse. Il plasma non è sicuro e quindi la cura col plasma non è sicura. Cosa rispondiamo? Rispondiamo quello che può rispondere un donatore. Il plasma è la cosa più sicura che ci possa essere. Ormai è acclarato, ci sono tantissimi dati di letteratura che lo dimostrano. Ormai il plasma è stato, come dico io, sdoganato, per cui stanno venendo fuori tantissimi lavori. Uno dei lavori che stanno per essere pubblicati è un lavoro scritto dagli americani che hanno arruolato 5.000 persone e hanno dimostrato che il rischio biologico del plasma è praticamente nullo. Nella nostra piccola casistica abbiamo avuto zero effetti collaterali, abbiamo avuto zero eventi avversi e abbiamo trattato tra noi e Pavia e ormai tutte le città che si sono cimentate ad utilizzare il plasma dei pazienti convalescente oltre 200 pazienti. Quindi stiamo parlando di una numerosità con una potenza già significativa. Ecco, vedo che fra i tanti commenti, grazie professore, grande professore, avanti dei donno, in tanti scrivono, attenzione qua non c'è complottismo, non ci sono idee strane, la terra è tonda, non è piatta molto probabilmente, però in molti dicono, ce l'hanno col professor dei donno perché il plasma costa poco mentre qualcun altro ha in testa il business anche sulla salute. Che diciamo? Diciamo che il plasma è gratuito. Il plasma viene dai donatori, è un atto meraviglioso. Io amo dire che è democratico, ma quando dico democratico intendo dire che viene dal popolo e torna al popolo. Di questo io sono convinto. Ogni volta che lo dico mi vengono i brividi. È il più grande atto di solidarietà. È qualche cosa che viene donato, non può costare. È per quello che dico, ma come si fa a dire che il plasma costa tanto? Cioè quello che può costare è la lavorazione del plasma. Ma se la lavorazione porta a far costare una sacca di plasma da 300 ml, quanto serve per trattare un paziente? 100 euro? Per me 100 euro per salvare una vita sono un'inezia. Ed è per quello che dico, costa veramente poco, anzi è gratuito. Ecco, perché questi attacchi a un primario di un ospedale pubblico, ce lo dicevamo, demente, disadattato, il di Bella Mantovano? Cosa c'è dietro ignoranza, gelosia, invidia, interesse economico? Vede, il discorso è questo. Noi abbiamo lavorato con Pavia, che è una grande università. Noi siamo invece un ospedale provinciale. Abbiamo arruolato più pazienti rispetto a Pavia. Abbiamo portato avanti con maggior convinzione per come la vedo io questa sperimentazione. Io ci ho creduto dal primo momento e questa sperimentazione la sento mia. Poi è ovvio che io sono un medico ospedaliero, per cui non sono ossessionato dall'impatto come possono essere ossessionati i professori. Perché per me la priorità non è pubblicare. Per me la priorità è sperimentare per salvare. Sono due visioni differenti di idea che noi abbiamo. Ieri sono stato attaccato da due professori universitari che hanno guardato in rete il mio curriculum e hanno detto che è un curriculum modesto. Io l'ho sempre detto che sono un medico di campagna, ma in realtà il mio curriculum modesto è legato al fatto che non lo aggiorno. Perché non mi interessa? Ho un sacco di articoli e di lavori scientifici messi nel cassetto che non ho inserito nel curriculum. Perché il mio obiettivo non è quello di fare il professore universitario, ma è quello di fare il medico ospedaliero, il professore di un ospedale e di periferia. E ne sono orgoglioso perché questo ospedale ha tirato fuori denti e idee. E ha tirato fuori delle punte di diamanti. Le punte di diamanti è che gli altri ospedali non sono riusciti a buttare fuori e probabilmente un po' di invidia. Questo l'ha scatenata. Quali sono le sensazioni più belle di queste settimane drammatiche? Le parole che le rimarranno per sempre dentro? Gli occhi, il ringraziamento, la sofferenza, lo stupore, il sorriso. Che si ricorda di qualcosa, di qualcuno in particolare. Penso che sia difficile perché salvare anche solo una vita, penso che sia un'emozione che ti porti dietro finché campi. Guarda, i primi giorni sono stati drammatici. I primi giorni sono stati drammatici. Sono giorni che mi hanno cambiato profondamente. Mi hanno cambiato in tutto. Mia moglie dice che mi hanno cambiato anche nel modo di parlare. Io ci credo. Non sarò più quello che ero prima. Sono una persona stravolta nel carattere, nelle idee, nei pensieri, nelle emozioni. Ci commuoviamo tutti. Io mi confronto con i miei colleghi. Ci commuoviamo tutti facilmente. Le cose più belle sono quando salutiamo i pazienti. Quando li portiamo fuori dalla nostra terapia intensiva. Piangiamo sempre insieme. E tra di noi è rimasto un rapporto meraviglioso. Ci scambiamo messaggi della buona notte. Io ho una chat con i pazienti e molte volte appunto sono lì a incoraggiarmi quando sanno che vado in una trasmissione o quando sanno che rilascio un'intervista. Sono sempre pronti a sostenermi. È una cosa veramente meravigliosa. Ma la cosa meravigliosa è quando vado a salutare al mattino i donatori. Quando vado a salutare al mattino i donatori che sono lì che aspettano che io vada a salutarli per farle la consueta foto insieme. È un momento bellissimo. Ieri c'è stato Cristiano, un ragazzo meraviglioso. Un giovane ragazzo che è anche padre di famiglia. Tra le migliaia di cose che fa, fa anche il giornalista. Ci siamo commossi. Io avessi potuto abbracciarlo come un figlio, l'avrei fatto. Ovviamente il momento non ce lo consente. E lo stesso stamattina sono andato a salutare due donatori. Uno dei due donatori aveva le lacrime agli occhi. E questo a me, noi diciamo, mi ha determinato... I pazienti guariti con cui... I pazienti guariti. Ma quattro erano donatori... I pazienti guariti, pazienti guariti. Che faranno guarire. Che faranno guarire. Ecco, ricordiamo, questo lo ricordo io sottovoce da donatore di sangue, per donare sangue o plasma, anche se uno non ha avuto il virus, ma lo può fare normalmente, bisogna avere fra i 18 e i 60 anni, godere di buona salute, non drogarsi, non ubriacarsi e avere una vita sessuale, sentimentale controllata e protetta, mettiamola così. Se qualcuno non l'ha mai fatto, lo faccia, perché ci sono ormai banche del plasma, a prescindere dal virus, che ovviamente servono anche perché anche il sangue intero, gli incidenti, i trapianti, i parti complicati, i tumorali. Quindi c'è il sangue e il plasma salvano vite a prescindere, quindi lo spot va fatto assolutamente sempre. Intanto il 99% dei commenti sono a favore del dottore, però c'è quell'1% che... Io non riesco a vedere... Fra le tante domande c'è qualcuno che chiede se l'inquinamento può aver aiutato la diffusione del virus o il ritardo della denuncia della Cina può avere aumentato la diffusione del virus. Inquinamento, Cina... Poi se ne sentono di tutti i colori, però io non ho competenza in materia. Allora, stanno venendo fuori i primi lavori, diciamo, con un peso epidemiologico importante che dimostrano che l'inquinamento sicuramente peggiora quelle che sono le manifestazioni cliniche della patologia correlata al coronavirus. Così come ci sono delle evidenze forti che dicono che, nonostante la maggior parte dei pazienti affetti da patologie da coronavirus siano non fumatori, il pool di fumatori che viene colpito è più grave rispetto al pool di non fumatori. Ah, quindi il fumo ha un aggravante in più in caso di aggressione? Diciamo che numericamente vengano colpiti di più i non fumatori perché abbiamo visto che espongo, noi abbiamo fatto un bellissimo studio qui a Mantua, i non fumatori esprimono di più un recettore che è l'ACE2, che è il recettore di entrata del coronavirus nelle cellule. I fumatori esprimono meno questo recettore per cui si ammalano meno frequentemente. Però quando si ammalano, si ammalano molto più pesantemente. Cioè sono quelli che più frequentemente vanno in rianimazione. Ah. E quindi il legame inquinamento-fumo è fortemente peggiorativo in questo pool di pazienti. Chiarissimo. Altre domande intanto. Il plasma può bastare per curare tutti in caso di ricadute? Ragazzi, qua non abbiamo la sfera di cristallo, la fase 3, la fase 4, ottobre. Io non so se tutti dicono ma attenzione perché fra settembre e ottobre è come se adesso... Però, le giro la domanda come c'è arrivata. Beh, non penso che i governatori, penso a Luca Zaia, che stanno istituendo la banca del plasma, lo facciano perché non hanno altro da fare nelle loro giornate, immagino. No, devo dire che questa è una cosa intelligente e noi lo sosteniamo dall'inizio. Da quando abbiamo iniziato a utilizzare il plasma del paziente convalescente abbiamo detto che il futuro sono le banche del plasma. Ci vuole una o al massimo due banche per ogni regione e che facciano coordinamento tra di loro. Questo ci mette in garanzia, ci mette in garanzia che se dovesse arrivare una seconda che per me in realtà è una terza ondata, noi riusciremmo ad avere da subito il plasma dei pazienti convalescenti. Ma a prescindere da questo ci permetterebbe di fare anche cordone umanitario con quei paesi che verranno colpiti dopo di noi. Lo stiamo vedendo anche in questo momento. Brasile, Cile e Peru sono i tre paesi che in questo momento avrebbero bisogno di un cordone umanitario e che se noi potessimo aiuteremmo volentieri. Ecco, la cosa che ci dicevamo fuori onda è che mentre c'è polemica da qualche, come dicevamo, professorone o scienziato italiano, oggi lei lavorava con dei colleghi in Cile, Messico e Brasile dove l'ondata sta arrivando violenta adesso perché è dalla piccola ma splendida Mantua, e lo dico perché la mia nonna era mantovana, una mano in Brasile è riuscita a portarla. Quindi ormai c'è Mezzomondo che sta cercando di capire come la vostra ricerca può salvare vite. Assolutamente sì, abbiamo fatto oggi una bellissima call conference con i colleghi brasiliani. che si stanno organizzando in rete io e il professor Franchini aiuteremo a creare quello che è il percorso del plasma del paziente convalescente e daremo anche consigli dal punto di vista clinico-terapeutico su come trattare questi pazienti in modo che loro possano non fare gli errori che abbiamo fatto noi. Ecco, in tanti stanno scrivendo pensi che sono le 18.28 di un mercoledì di lavoro ci sono più di 9.000 persone collegate simultaneamente in questo momento e stanno mandando circa 3.000 domande. Ovviamente noi non riusciamo a leggere, non c'è un complotto, se riesco a leggere tre, però molti si sono soffermati sul suo curriculum e non faccio nomi e cognomi per non farla litigare con i suoi colleghi virologi o scienziati che sono onni presenti televisivamente, però tenga presente il fatto che molti più che al curriculum dicono guardano ai risultati, quindi evidentemente se il dottore non ha tempo per aggiornarlo è perché passa tanto tempo in ospedale. Sicuramente alle beghe fra politici gli italiani sono abituati, le beghe fra medici e scienziati sono un pochino più curiose, mettiamola così. Sì, ma in realtà guardi, dopo con uno dei due professori ci siamo anche chiariti perché loro facevano un po' così di ironia, non pensavano che io mi offendessi, ma in realtà non mi sono neanche offeso. È proprio una filosofia diversa che c'è. Noi siamo ospedalieri puri e ci interessiamo di quello che è l'ospedale e la vita dell'ospedale. L'universitario ovviamente ha degli altri obiettivi, il suo contatto col malato è marginale. Poi mi piacebbe girarle la marea di ringraziamenti che le stanno arrivando non solo da tutta Italia, dottore, perché vedo Catania, Trento, Palermo, Roma, Napoli, Torino. Lei sta avvicinando e sta incuriosendo. Magari spero che anche questa diretta serva a portare domani nelle sedi Aviso, negli ospedali, 100 donatori in più, sani o che hanno fatto il virus. che cosa può dirci della situazione ad oggi? Metà maggio, fase 2, la gente che esce, la distanza sociale, le mascherine, un metro, al ristorante, ci vado, non ci vado, in negozio, ci vado, non ci vado. Lei che ha un osservatorio particolare, che sensazione, non le chiedo impegni perché nessuno ovviamente ha la bacchetta magica, ma che sensazione dopo queste settimane di battaglia ha e che consiglio può dare a coloro che hanno ripreso a lavorare, a uscire, a studiare, a correre da due giorni? L'impressione che io ho è che il virus sicuramente circoli in questo momento meno nella popolazione. Ciò non vuol dire che abbia perso virulenza. Io quando sento che alcuni virologi dicono che questo virus ha perso virulenza mi vengono i brividi perché noi non abbiamo nessuno strumento per calcolare la virulenza di un virus. Dico sempre in modo ironico non abbiamo un virometro, c'è qualcosa che misuri la sua intensità. Certo è che il lock da totale che abbiamo fatto qualche vantaggio ce lo sta portando e lo stiamo vedendo, minori accessi al pronto soccorso, le rianimazioni che prima erano tutte covid oggi non lo sono più. Stiamo chiudendo molti reparti covid e questo è un bene perché vuol dire che anche gli ospedali possono tornare pian piano a curare pazienti che non sono covid che sono le vittime secondarie di questa pandemia perché diciamo che abbiamo curato tantissimo i pazienti covid dimenticandoci molte volte dei pazienti che non erano covid e questo è un grave gap che non siamo riusciti purtroppo a colmare lo stanno scrivendo in tanti che ovviamente sono state bloccate tutte le prestazioni ambulatoriali non urgenti e non emergenziali quindi le liste di attesa assolutamente ma non soltanto le liste di attesa cioè i pazienti oncologici che aspettavano un intervento chirurgico e che l'hanno ritardato i pazienti asmatici gravi che curavamo con i biologici c'è tantissime patologie i pazienti con la fibrosi polmonare cioè con patologie anche che avevano necessità di alta intensità di cura li abbiamo veramente trascurati e io penso che se noi ci sono uno di quelli che era favorevole al muriamoci in casa e al fatto che dovevamo assolutamente attuare un isolamento adesso sono ovviamente favorevole alla riapertura perché ormai non si può pensare che un paese crolli dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale e dal punto di vista sociale bisogna però stare attenti cioè mantenere quelle che sono le basilari misure di prevenzione la distanza la mascherina il lavarsi le mani non abbiamo bisogno di molto abbiamo bisogno di 3-4 cose poi pian pianino si può ritornare ad una vita pseudonormale secondo me pian pianino si potrà anche ridurre quella che è l'intensità delle prescrizioni è ovvio che deve essere una cosa graduale ma se questo noi non lo facciamo è molto probabile come è avvenuto in Germania che il virus riprenda a circolare la vera emergenza in questo momento rimangono gli anziani soprattutto gli anziani in strutture in case di riposo stanno scrivendo in tanti se la sua cura può anche servire sopra una certa età io non so se i vostri pazienti guariti avessero un'età media particolare però stanno scrivendo in molti o loro o per la loro mamma o per il loro nonno per capire se il plasma può essere la via di salvezza anche per tanti genitori o tanti nonni il popolo italiano è un popolo meraviglioso è un popolo meraviglioso perché ragiona come noi io domani parto con una sperimentazione che è una sperimentazione che avvieremo nell'RSA cioè nelle case di riposo andremo a trattare gli anziani covid positivi con polmonite senza insufficienza respiratoria grave per evitare che questi pazienti evolvano e possano morire e se questa cosa l'avessimo fatta prima sicuramente sarebbero morti molti meno anziani e questa è una cosa che io mi porterò dietro perché eticamente è veramente pesante per noi avere oggi un'arma che avremmo potuto usare ieri però cara grazia che l'arma oggi sia conosciuta sia sperimentata e sia utilizzata perché ce lo diciamo sotto voce senza senza glorie però lei spesso scrive nei suoi post anzi poi a fine diretta andate a popolare la pagina del professor De Donno che senza questa sua battaglia che probabilmente lei è costata qualcosa anche personalmente in termini di privacy di tranquillità di litigi però il plasma sarebbe rimasto in cantina cioè se lei non l'avesse tenuto duro il plasma non l'avrebbe mai usato nessuno e mai promosso nessuno sarebbe stato chiuso a chiave in cantina non soltanto in cantina ma in cantina chiuso a chiave e questo è risaputo e lo sanno anche quelli che fanno finta di non crederci quelli che dicono che io l'abbia fatto per una visibilità personale quelli che dicono che io l'abbia fatto perché ho ambizioni politiche tutto lontano rispetto a quella che è la mia filosofia guardi fra i tanti messaggi Mario Russo quando vedo persone così provo orgoglio e stima per l'essere umano grazie dottore poi in tanti stanno chiedendo ad esempio Celestino Tamburini come si può fare a donare il plasma lo lascio dire a lei a parte che domani uno può cercare la sede Avis più vicina cercandola su internet o ci sono anche FIDAS tanti donatori di sangue il Policlinico a Milano o l'ospedale come si può fare domani a donare il sangue? Allora diciamo che il punto di riferimento dei donatori deve essere sempre Avis Avis è la rete capillare dei donatori di sangue e quindi anche degli emocomponenti dopo è anche vero che il sangue del paziente convalescente verrà donato non nelle sedi Avis ma nei trasfusionali di secondo livello ma è Avis stessa che ci indirizza i pazienti tenga conto che il 30-40% dei pazienti che hanno donato il loro plasma convalescente vengono proprio dal mondo dei donatori Avis che si sono ammalati e sono guariti il 60% sono donatori cosiddetti occasionali che però sono transitati sempre dalle reti Avis o dagli ospedali o direttamente ci hanno contattato possiamo dire anche egoisticamente che il dono del sangue è utile anche per chi dona nel senso che c'è un controllo gratuito di tutti i valori del colesterolo io ho 190 quindi so cosa posso mangiare e non mangiare di tutte le malattie possibili e immaginabili ti provano la presenza tutto gratis diciamo in un momento di difficoltà economica anche l'utilità per chi dona un test gratuito totale completo sullo stato di salute e tante malattie anche brutte vengono ahimè scoperte ahimè o per fortuna scoperte in tempo grazie alla donazione di sangue perché uno non ci pensa però oltre ad aiutare qualcuno aiuti te stesso è proprio così è proprio così noi stiamo facendo diagnosi di tante malattie occulte è un modo anche di fare prevenzione è vero è ovvio che poi è un patrimonio di conoscenze è un patrimonio di emozioni ed è un patrimonio per i donatori è vero sia per fare gli esami ma i donatori vanno a casa appagati è un momento che si ricorderanno per sempre intanto saluto fra i tanti Red Ronny che è un altro che si è speso per il professore in tanti stanno scrivendo stanno provando a farla a trattarla come trattarono il professor Di Bella che ricordiamo aveva tre lauree comunque non era un passante non era uno dice ah il Di Bella Mantovano cura sperimentale ma di un signore che aveva tre lauree quindi non stiamo parlando di un marziano o di un fanfarone mi correga se sbaglio io il professor il professor Di Bella ovviamente l'ho conosciuto nei miei anni modenesi io sono stato a Modena circa 15 anni e sono stato a Modena proprio nel momento in cui c'era il professor Di Bella che era molto in voga con la sua terapia io in quegli anni facevo l'oncologo facevo l'oncopneumologo al policlinico di Modena i pazienti che trattava il professor Di Bella molte volte li vedevo io in ambulatorio io non voglio dire che la sperimentazione che sia stata fatta sia stata fatta contro il professor Di Bella però il professor Di Bella aveva una cultura eccezionale e non si può mai trattare una persona che ha tre lauree come è stato trattato il professor Di Bella si può essere d'accordo con le sue idee si può essere d'accordo o meno con la sua modalità di trattamento ma veramente io provo sconcerto ogni volta che noi cerchiamo di screditare uno scienziato andandolo a colpire nelle sue nei suoi lati diciamo professionali o personali e la stessa cosa sta avvenendo col professor Tarro che è un altro grandissimo virologo del nostro paese io non sono sempre d'accordo col professor Tarro sui vaccini abbiamo posizioni discordanti sul siero iperimmune abbiamo delle posizioni concordantissime l'hanno cercato di descrivere nei nodi più disparati ma questo professore è stato candidato al premio Nobel io penso che un paese debba portare rispetto a un professore che è stato candidato al premio Nobel poi non le rubo ulteriore tempo perché c'è mezzo mondo che l'aspetta intanto scrive Alessia Lugli il nostro dottore con tutta la sua umiltà ha conquistato tutta Mantua tutti noi siamo orgogliosi di averlo proprio nel nostro ospedale questo per dire che c'è una buona parte di Mantua che sta seguendo poi vedo Calabria Sardegna Lazio in tanti cittadini da Roma e da Lazio non so se sono aggiornato meno mi dicono ma perché in regione Lazio non è possibile questa sperimentazione è così? è così oggi proprio oggi io faccio parte di una di una chart di scienziati e di professori universitari e di politici proprio oggi mi hanno appena postato che il consiglio regionale del Lazio ha bocciato qualsiasi possibilità di partecipare a sperimentazioni sul plasma o attivare banche del plasma ma perché questo? questo bisogna chiederlo a chi ha votato contro e non fatemi dire chi ha votato contro però un governatore del Lazio ma come nota di cronaca e Zingaretti e immagino che a votare contro c'è stata la maggioranza adesso però approfondiremo perché ho letto tanti cittadini di Roma e del Lazio che mi dicono ma perché noi no? Io dico sempre vede che il plasma non ha effetti collaterali e anche se dovesse guarire un paziente su dieci dico uno su dieci chi dice di no dovrà poi rispondere a quell'uno su dieci cioè è come quando noi medici o professionisti della salute parliamo in pubblico tutto ciò che diciamo deve essere pesato e tutto ciò che diciamo deve avere un peso ma anche un secondo peso cioè dobbiamo avere una responsabilità di quello che diciamo perché se questo non è non siamo più credibili Dottore poi non le voglio togliere altro tempo però fra le migliaia di messaggi quelli che riesco a intraleggere uno su due dice ma se è così perché lo bloccano? Che interessi economici ci sono dietro? Forse che il plasma costa troppo poco? Il plasma è gratis e quindi probabilmente da parte di non dico tutta l'industria farmaceutica perché non c'è l'industria farmaceutica però probabilmente c'è qualcuno che è molto più attento al business che ad altri ragionamenti questo lo posso dire io senza farlo dire però per correttezza guardi io lavoro costantemente col trasfusionale non solo oggi ma anche in passato noi abbiamo attuato questo protocollo in guerra quando avevamo bisogno di avere un'arma disponibilissima rapida per usarla sui pazienti che ci morivano come le mosche è ovvio che in fase di tranquillità i trasfusionali collaboreranno con le industrie per produrre degli emocomponenti cosiddetti industriali è sempre stato così io sono un pneumologo curo gli enfisemi congeniti l'enfisema congenito lo curo con l'alfa 1 antitrepsina che è un derivato di sintesi del plasma è industriale che problema c'è? il problema è che in questa fase in questo momento in cui non conosciamo assolutamente il virus l'unica farmaco che possiamo usare è il plasma convalescente poi in fase di tranquillità riusciremo a capire se riusciremo a sintetizzare qualcosa o se riusciremo a fare un vaccino però dire di no adesso non è comprensibile dire di no il momento di emergenza non è comprensibile è folle secondo me è folle e poi le dico un'altra cosa il vaccino non è in contrapposizione col plasma convalescente hanno due finalità diverse il vaccino è preventivo il plasma convalescente è preventivo e curativo negli Stati Uniti d'America stanno utilizzando il plasma convalescente in profilassi nel personale sanitario in modo che non si ammali lei partecipa anche a maratoni musicali qua mi dicono grazie a Beppe Stanco Cesare Ruschel amante del museo Giuseppe De Donno al di là dell'immagine televisiva poi sta succedendo una roba strana perché di solito le dirette Facebook ormai siamo in onda da più di mezz'ora dopo un po' scemano qua aumentano e quindi evidentemente c'è di mezzo la vita della gente e quindi interessa mi dicono che siamo anche sulla home page della Gazzetta di Mantua e quindi salutiamo i giornalisti della Gazzetta Giuseppe De Donno tolto il camice chi è? cosa fai? sposato? che musica sposta? io sono sposato con una donna che è la donna più paziente che io conosca non so veramente ancora come fa a sopportarmi forse perché ci vediamo veramente poco poi ho due figli meravigliosi Martina che ha 20 anni ed Edoardo che ne ha 15 Martina canta da tanti anni per cui quando io sono a casa che mi tolgo il camice la costringo a cantare insieme a me e devo dire che sono in me come l'hanno preso la moglie e i due figli che avevano un papà normale grande per il lavoro ma normale fino a due mesi fa e che adesso il papà in televisione sui giornali è amato è attaccato come la vivono in casa? ma la vivono così nei primi giorni ovviamente noi ci vedevamo via Skype e loro vedevano nei miei occhi il tormento e la disperazione e adesso mi vedono più sereno e quindi questo li ha veramente incoraggiati a sopportare la mia assenza adesso sono un po' più presente a casa per fortuna però ai primi tempi non c'ero quasi mai e devo dire la verità ho avuto una famiglia che mi ha sopportato ma anche supportato e io di questo sarò loro grato per tutta la vita hobby se ha tempo quando ritroverà il tempo quando ritroverò il tempo riprenderò ad andare in mountain bike prima dovrò perdere i 10 kg che ho accumulato in queste settimane ma perché la generosità della gente è stata anche questa non c'è stato un ristoratore di Mantua che non mi abbia fatto sentire la sua presenza dalla colazione ai pranzi alle cene tutti sono stati meravigliosi e quindi anche questo ci è servito per andare avanti però se il mio hobby è la mountain bike trovarmi con gli amici e fare delle delle pedalate delle biciclettate importanti è veramente meraviglioso e poi cantare con mia figlia quello mi riempie mi riempie veramente di grande qual è il pezzo forte? io sono un amante di Tiziano Ferro e ogni tanto provo a cimentarmi nelle canzoni di Tiziano Ferro ovviamente non farò mai sentire a nessuno quello che canto e mia figlia invece è molto molto brava ecco ma mia figlia si studia canto da sette anni per cui è piacevolissimo sentirla dopo è anche vero che Beppe Stanco e Rush sono ormai diventati dei miei amici mi hanno aiutato in quella bellissima manifestazione che è New York Canta che ha fatto veramente un grande un grande successo e ci siamo veramente divertiti quel giorno e da quella da quell'esperienza stanno partendo molte iniziative musicali con cantanti lirici e cantanti di operetta per cui hanno fatto da apripista tantissimi esperimenti che spero di realizzare a sostegno del nostro centro di ricerca Lucia chiede se una persona volesse essere curata con il plasma come deve fare deve sentire il centro di riferimento è ovvio che ci sono dei criteri per essere trattati col plasma però è il centro di riferimento a cui afferisce il paziente che dovrà decidere se trattare o meno dopo noi siamo disponibilissimi a mandare il plasma ovunque se un centro che non produce plasma ce lo chiede noi lo mandiamo ovunque ricordiamo i tanti che scrivono che il plasma donato anche il sangue donato prima di essere trasfuso viene controllato perché non è che uno passi il sangue il plasma come se nulla fosse quindi non è matematicamente possibile trasmettere malattie perché se uno avesse qualche problema quella sacca di plasma viene bloccata dottore mi correga se sbaglio assolutamente il centro ha fatto un percorso sicurissimo per il plasma del paziente convalescente noi dobbiamo fare delle misurazioni di biologia molecolare per tutti i virus soprattutto per il parvovirus il virus dell'epatite l'HIV cose molto più approfondite rispetto che per gli abituali donatori per quello dico che il plasma del paziente convalescente è assolutamente sicuro abbiamo scatenato i cittadini di Roma e del Lazio che sono imbestialiti perché noi no adesso noi approfondiremo non ne ho idea è una notizia di oggi però ripeto pare che ci sia stato questo voto in consiglio regionale che ha bloccato la banca regionale del plasma però quando c'è di mezzo la salute il sangue la vita non penso che la politica possa o debba dividersi cerchiamo di capire perché perché altrimenti uno dice perché a Mantova sì perché in Calabria sì perché in Lombardia sì in Veneto sì e noi a Roma no quindi la domanda è legittima questo i cittadini del Lazio però se lo devono chiedere devono approfondire l'argomento io vi dico quello che ho ricevuto in una chat che è in una chat di professori ma ce lo stanno confermando lo stanno confermando immagino perché è una chat di persone serie pertanto immagino che sia vera però i cittadini dovranno ricordarselo queste cose che avvengono non è che avvengano per caso e noi cittadini dobbiamo ricordarcelo io devo ricordarmi quello che dice il virologo di Bologna o l'infettivologo di Bologna o il virologo di Milano l'infettivologo di Milano perché le parole sono pesanti i politici si affidano agli specialisti lei ha fatto il ministro dell'interno penso che abbia avuto i suoi consulenti e gli abbia ascoltato i suoi consulenti e se i suoi consulenti la indirizzano male lei prende delle decisioni condizionate allora io dico se un consulente sbaglia bisogna cambiarlo guardi la ringrazio con questo messaggio Aurora dottore la sto ascoltando da Parigi e nell'ascoltarla mi sento fiero di essere italiano lasci perdere gelosi ed egoisti quindi c'è non solo Mantova e Italia posso farvi vedere una cosa sono tre secondi mi allontano un secondo si allontani in attesa che torni perché vi voglio far vedere cosa mi hanno cosa succede voglio farvi vedere cosa mi hanno regalato prima di venire in diretta ah la mascherina dov'è dov'è che c'è la mia dammi la mia guarda ci abbiamo ci abbiamo il gemellaggio da questo punto di vista anche cromatico guarda uguale guarda questo per me è fonte di orgoglio perché vuol dire che i miei pazienti e i parenti dei miei pazienti amano il nostro paese e ci identificano come i salvatori di un paese non di una parte del paese ed è questo il messaggio che noi dobbiamo lanciare che di fronte a una pandemia dobbiamo essere uniti e mai divisi io la ringrazio per andrei avanti anche la gente che sta scrivendo andrebbe avanti a oltranza però eravamo partiti per fare dieci minuti un quarto d'ora siamo ancora in migliaia però ha tanto da fare posso dirle grazie al di là delle idee delle scelte musicali io a Tiziano Ferro preferisco Fabrizio di Andrè però questo ognuno è una grande alternativa è un grande che ti dà la ferro comunque quindi complimenti a sua figlia però grazie perché le abbiamo rubato un tre quarti d'ora del suo tempo che è più prezioso del mio e di tanti altri spero che questi minuti abbiano a convinto qualcuno ad andare domani a donare il sangue o il plasma perché comincia un percorso che può durare 20, 30, 40 anni e che fa bene a prescindere dai virus B magari abbiamo smontato qualche diceria che se uno sente il telegiornale il sangue non è sicuro il sangue costa non è una terapia è una sperimentazione ah sì quel dottore là cercherà la fama io penso che lei se la sarebbe risparmiata la fama in cambio della cura o sbaglio io guardi mi sarei risparmiato volentieri questa pandemia che ci ricorderemo per sempre e tutti i pazienti che non abbiamo salvato ci riporteremo con noi la fama a noi non interessa noi siamo dei medici e quindi quello vogliamo fare l'abbiamo scelto per professione io le dico nel mio comune ho fatto il vice sindaco l'ho fatto convintamente ho lavorato con la destra e con la sinistra abbiamo creato una rete di servizi sociali invidiabile il mio tempo era finito e sono tornato a fare il medico come giusto che sia noi abbiamo la possibilità di fare qualche cosa di meraviglioso e Mantua lo sta dimostrando e io le posso dire da italiano e anche da lombardo con tutto quello che hanno detto sulla Lombardia sulla sanità lombarda accuse indagini ecco non entro nel merito poi tutte le responsabilità a livello mondiale verranno apurate però mentre ci sono medici che salvano vite in corsia mandare gli ispettori o mandare i carabinieri non mi sembra esattamente il modo migliore per aiutare la gente che sta lavorando questo lo posso dire Ministro però se posso dire una cosa sulla Lombardia ci tengo perché noi molte volte critichiamo la nostra regione per carità e ci mancherebbe ognuno ha i suoi motivi ognuno ha le sue idee la Lombardia è stata colpita da uno tsunami è stata colpita da una bomba atomica che ci è scoppiata tra le mani nessuno avrebbe potuto far meglio di quello che abbiamo fatto noi e quando sento altre regioni che fanno non dico i professori ma che ci guardano un po' con supponenza dico sempre cinque giorni di differenza vi hanno permesso di organizzarvi hanno permesso voi di creare dei modelli probabilmente vi hanno permesso di cambiare i vostri consulenti probabilmente vi hanno permesso di chiudervi come è successo in molte regioni del meridione questo vi ha salvaguardato ma la Lombardia non ha avuto questa opportunità perché qui è scoppiato tutto in una notte il 27 di febbraio noi sono arrivati 110 persone in pronto soccorso 110 persone in un pronto soccorso ci arrivavano da tutte le parti c'erano i medici del pronto soccorso devastati arrivavano pazienti da Bergamo da Cremona da Crema non avevamo più bocchette dell'ossigeno sentivamo al telefono i nostri colleghi di Cremona avevano gente ventilata nei sottoscala cioè qualche cosa che era imprevedibile e quindi quello che è stato fatto è stato fatto come in una guerra ma quando dico come in una guerra lo dico davvero come in una guerra in cui avevamo delle armi spuntate dove non avevamo carri armati dove non avevamo mitragliatrici ma avevamo delle armi spuntate per cui quello che siamo riusciti a fare è un miracolo ed è un miracolo e devo dire che noi abbiamo avuto il presidente di regione che si è ammalato di coronavirus non a caso si è ammalato perché lui è stato in mezzo a noi io non l'ho votato il mio presidente di regione posso dirlo chiaramente che lo rispetto che si è impegnato tantissimo si è impegnato a tal punto da ammalarsi e quando uno si ammala e guarisce quello è un eroe per me lo è come sono i miei pazienti e io lo guardo sempre con un occhio di rispetto e tutte le volte che viene accusato o denigrato io ci rimango male dottore io la ringrazio di cuore perché in giornate caotiche poi qua oggi in Parlamento la mozione di sfiducia al ministro della giustizia le polemiche qui e là le posso dire che questi minuti mi hanno portato ossigeno orgoglio speranza perché molti a casa oggi abbiamo parlato di salute però il problema della cassa integrazione i 600 euro i negozi chiusi i mutui gli affitti però posso dire che persone come lei ci servono per capire che ce la faremo che c'è speranza altrimenti le dico grazie non le dico altro le dico grazie perché da speranza quelli che io leggo ovviamente hanno enormi problemi economici hanno problemi con la disabilità in casa pensiamo a un bimbo autistico che aveva nell'abitudine nella scuola la maniera di andare avanti ed è tornato indietro mi scriveva una mamma di anni visto che ha perso le sue abitudini è così però lei è la dimostrazione che con poco con la testa col cuore e con qualcosa che è gratuito mi piace l'asma è democratico e quindi non è per ricchi per poveri e quindi l'Italia è un grande paese è un grande paese e quindi ce la faremo ce la faremo e dovrà tenere duro anche quelli che hanno difficoltà economiche io ieri ho ascoltato i nostri concittadini del lago di Garda che sono disperati perché non hanno turismo sul turismo e devono tenere duro e dobbiamo fare in modo che questo turismo ripatta perché le possibilità con attenzione con interventi mirati le possibilità ci sono e dobbiamo stare solo attenti ma non possiamo di cosenza perché usano il suo plasma e il suo assolutamente tortelli con la zucca la prima volta che vengo a Mantova con la mostarda e gli amaretti con l'amaretto senza amaretto non è tortello di zucca con tutto rispetto per i cremaschi sono buoni i tortelli cremaschi per carità però i tortelli di zucca sono mantovani quindi va benissimo dove va adesso e chiudo cosa fa adesso mi chiama adesso adesso no adesso mi chiudo qua dentro e finisco di studiare un abbraccio e la ringrazio per essere stato ospite di una pagina di un tizio strano che si chiama Matteo Salvini però noi fra tizi strani andiamo d'accordo grazie di cuore ai guariti e a coloro che hanno speranza grazie alla sua cura grazie di cuore grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato a presto